ciao a tutti ragazzi da Sampo83 benvenuti di nuovo su Lara Croft del tempo di Osiride nuovo episodio della tomba del torturatore manco mai che mi fai andare dobbiamo praticamente cercare una via che ci faccia andare qua dritto mi fai andare mai più nella vita ma dove cavolo vuoi che vada scusa cioè scusami eh almeno di qua mi fai andare dai prendiamo è un labirinto c'è un teschio c'è c'è un teschio c'è un va bene dai devo andare di qua se non si di qua giustissimo perfetto 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 prefetto di qui prepariamoci adesso perché arriveranno dei rompiscatole io questa qua la metto di qua l'ultima centrale ricordatelo ok arrivano 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 non arriva nessuno c'è posso prendermi no mai più posso passare qua si accendiamo questo andiamo di qua si può passare di qua si per favore no non si può ok accendiamo porco cane questi dove arrivano arrivano ok ok munizioni prese ok mannaggia stavo per ammazzarmi ok voi da dove cavolo arrivate da qua non si va da nessuna parte accendiamo anche questo così abbiamo un po più di luce un due gemme ok io volevo andare un attimino di là che non si andrà mai qua mi fai andare per favore no neanche di qua facciamo giro di qua accendiamo questa luce ovviamente che sempre comoda ci dà dei punti delle gemme mannaggia a me campi delle gemme ora deve affari dura veicò dimostra perfettissimo, la protezione delle mozioni massimo è perfettissimo non cambia assolutamente niente ahhhh, glianni mostri, glianni mostri, glianni mostri, glianni mostri, gli annoni mostri, gli annoni mostri io ho colore di questo tanto quelli ci infilizzano io ho colore di questo tanto questi qua ci infilizzano che cavolo ne fai per me Eh, bravo, mi sto andando a fuoco, quant'algo ci fa a spegnersi, se non ci fa? Ok, qua, eh, un attimino, bisogna fare un giro, devo prendere a fuggire a fuoco, allora Allora, mi fai prendere sta? No, neanche di qua. Dove vuoi che vada? Scusa, porco cane. Io vado dove conosco, vi faccio venire qua e poi vi faccio infizzare. Vieni, vieni. Puttano, eh. Vente, dammi le vite. Passo morto, no, se ci salti sopra mori. Ah, adesso ho leggermente capito. Un altro in meno. Ok, buono, a me non ti interessa, andiamo subito a prendere i cavoli di affare lì. Ovviamente dobbiamo fare un giro molto, 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 molto lungo, eccolo qua. Ma io ti spavano, non ne credo, non ti imparare. Da. Ma dove c'è il primo giro? Allora, fatemi vedere, riconosciti. Ok, li ho ammazzacciati tutti. Ammazzacchiati. Allora. Qua non riesco a prendere le missioni, qua. non riesco a prendere niente. Grazie che me le spingo. Uh, c'è una bella cosa, qua. Vediamo se posso prenderla senza morire. Mitra potenziato. Questo me lo inventario. Mitra, mitra, mitra potenziato. E consuma veramente... Non fa niente, non c'è, guardate. Un'attacca potenziale, ma velocità di fuoco, non c'è niente. Un'attacca uguale. Vabbè, dai. Non andiamo a cercare lo stesso, non cambia niente. Però, scusa, sto cavolo di amore, perché non mi... Scusa, eh. Rigenerami... Rigenerami le missioni, per favore. Ah, forse... Uh, qua morti, vabbè. Qua... 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 Eh, che vabbè. Mannaggia a te, mannaggia, mannaggia a te. Eh... E qui anche a te. E qui, qua, se devo andare con te, si dice, no? Guarda a te, guarda a te. E mi prendo la vita da qui che c'è Con calma e con calma Ma in giro devo fare quanti cavolo ce ne sono Di straffare qua Dai basta per favore Ok lo prendo Tutto il giro Tutto il giro Tutto il giro Allora di qua adesso dobbiamo andare dritti Sinistra cioè verso il basso Oh brava bisogna scendere le piastrelle qua dai Ora dobbiamo scendere di qui Andare di qua Qui a destra Sinistra Me la ricordo No Eh No 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 di qua No Ah si no di qua No 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 E mettiamo l'ultimo pezzo centrale Anzi No 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 No